C'è un'idea bellissima. L'aceto è una tematica a me molto cara perché mio zio aveva una batteria e quindi ho rivissuto un po' in questo racconto quella che è stata la mia infanzia quando era piccolino mi portavano in solaio a vedere le botti. Quindi questa è stata un'esperienza bellissima. Credo che sia veramente importante che anche noi modenesi iniziamo ad apprezzare le nostre cose, le cose di casa nostra senza dover per forza sempre cercare l'eccezionale a chilometri di distanza. Nel senso che abbiamo veramente a due passi da casa delle testimonianze bellissime di tradizioni e di valori come abbiamo imparato veramente importanti. Mi sono arricchito perché sinceramente non essendo modenese di nascita sto scoprendo mano a mano quelle che sono delle ricchezze che questa terra può donare a chi la vive. Di conseguenza oggi ho avuto l'opportunità di visitare questo museo qui a Spilamberto ed è stata un'esperienza fantastica per me che comunque anche alla cucina di questo posto sono molto legato e di conseguenza a quello che è l'oro nero, ovvero l'aceto balsamico. Insomma sapere meglio come viene fatto, come viene prodotto e anche come mangiarlo è sicuramente qualcosa che mi ha divertito e mi ha fatto piacere. Sicuramente la nostra è una terra molto importante da tanti punti di vista, come dicevano prima siamo famosi per l'aceto balsamico, i pavarotti e la Ferrari ed è giusto che i nostri musei vengano valorizzati. Speriamo che noi attraverso le nostre fotografie riusciamo a rendere diciamo omaggio a questi musei. Anche perché non è necessario andare chissà dove per vedere dei bei musei, delle belle cose e basta guardarsi intorno anche proprio nelle vicinanze, nei paraggi. Secondo me sì, i social sono un mezzo comunicativo molto importante e vanno a comunicare soprattutto ai giovani ed è importante secondo me che i giovani siano coinvolti in queste attività tipiche nostre, del nostro territorio che però sono tipicamente diciamo fatte soltanto da persone un po' in lago con gli anni se me lo permettete. Secondo me invece è molto importante che i giovani appunto si approcciano a queste realtà molto interessanti ed è importante portare avanti delle tradizioni del nostro territorio che se non andrebbero perdute. E' stato molto interessante oggi perché siamo abituati a viaggiare il mondo, andare in ogni parte del globo quando alla fine ci sono moltissime cose interessanti anche vicino a noi e che riguardano la nostra vita di tutti i giorni come può essere l'aceto balsamico che fa parte del nostro pasto praticamente ogni giorno. Sicuramente il fatto di essere coinvolta in questo progetto tramite la gazzetta di Modena è stata un'opportunità molto importante per me perché ho scoperto alcune chicche diciamo dell'aceto che non conoscevo e mi porto a casa tante piccole annotazioni in più riguardante l'aceto che magari lì per lì a cui non ho mai dato tanta attenzione e ho scoperto che se uno ti regala un aceto ti regala un pezzo di cuore. Alla fine avendo tanti follower da grande parte del dunque mondo volevo esportare questa esperienza con tutti loro. Sono anche veramente felice che mio padre abbia dato qui una botte in esposizione.